Bato, sconfitta pesante, lo diciamo subito, è evidente, il risultato parla chiaro, l'andamento del match è stato sempre di marca Civitanova. Difficile parlare dopo una sconfitta del genere, che cosa non ha funzionato Bato stasera? Ma penso che più che non ha funzionato quasi niente, sono stati bravi loro a metterci in difficoltà stasera. L'entrata la battuta, quando noi battiamo bene sono riusciti a tenere la battuta, a giocare con le nostre mani. La cosa importante è che il play-off non importa se è perso 3-0 o 3-2, importa solo vincere. Il fattore campo fino adesso non ha fatto assolutamente nessuna differenza e pensiamo a sabato, perché non ci sarà più domani. A sabato bisogna dare tutto e bisogna tirare fuori anche quelle poche energie che sono rimaste dopo una stagione lunghissima. Ma ecco, sono fiducioso, lo so che la squadra è sempre reagito bene dopo una sconfitta del genere e dobbiamo rimanere positivi, dobbiamo essere fiduciosi e sapendo che lo possiamo fare. Come si reagisce a una sconfitta del genere? Sabato è già vicino, ci sono pochi giorni per cercare di cambiare quello che ha detto il campo stasera. Quello che hanno fatto loro dobbiamo fare noi, spingere in battuta, giocare così bene in attacco come hanno fatto loro stasera. Si è visto che non abbiamo avuto tanta possibilità di difendere i paloni, noi siamo una squadra che comunque quest'anno è riuscita a essere uno dei più bravi in difesa. Stasera non lo abbiamo dimostrato e a Civitano bisogna fare molto molto meglio, ma pensiamo subito a sabato. Lo so che non è facile, ma testa su e andiamo avanti. Grazie Bada.